L'accusa non ha dubbi, vanno confermate le pene inflitte in primo grado, ergastolo per Sabrina e Cosima, otto anni per Michele. Per la difesa invece non si può confermare l'ergastolo combinato a conclusione di un processo indiziario viziato dal pregiudizio e dal forte condizionamento mediatico e ambientale nonché da indagini ritenute approssimative. Per Michele, accusato di sottrazione di cadavere, il legale ha chiesto una riduzione della pena. Poche le novità avvenute fuori dal secondo grado, se si esclude una perizia d'ufficio sui file log dei cellulari di vittima e presunti assassine, che però in fin dei conti ha lasciato i dubbi che c'erano. Così come nulla di nuovo è venuto fuori dalle tanto attese dichiarazioni spontanee di Cosima, che per la prima volta ha parlato in aula. Una dichiarazione di estraneità al delitto con l'iperbole del paragone con Cristo, anche egli condannato da innocente. Sabrina invece non è riuscita a dire più di due parole. Sono innocente e addolorata, poi l'ha interrotta il pianto. Il 24, ultima udienza per la difesa degli imputati minori. Poi, salvo richieste di precisazioni dell'accusa, la Camera di Consiglio e la sentenza entro fine mese. I legali delle due donne temono e prevedono la conferma del giudizio di primo grado.